Sono Lorenzo Buonaccorsi, Presidente del primo Municipio del Comune di Dio. Noi siamo molto contenti di ospitare e di aver contribuito a realizzare questa manifestazione che parte il 25 giugno e dura fino al 24 settembre, quindi davvero tutta l'estate, a Piazza Santa Maria in Trastevere, Piazza della Fotografia, quindi creare proprio un luogo fondamentale, importantissimo, meraviglioso e bellissimo del rione Trastevere, proprio del nostro Municipio, come luogo della fotografia, di cultura, quindi la cultura attraverso l'immagine, le fotografie, le videoestabilizioni, anche racconti ovviamente. Quindi da questo punto di vista siamo davvero contenti di aver contribuito a lavorare su questa iniziativa, innanzitutto perché riteniamo che sia importante riportare la cultura nelle piazze del nostro centro storico, riprenderci le piazze con la cultura, per fare un percorso di crescita culturale collettiva e quindi anche di sottrarle, se vogliamo, a dei momenti anche a volte difficili e spesso anche faticosi che i cittadini, i residenti romani sono abituati a vivere. Quindi ecco, questa è una strategia del primo Municipio, siamo contenti di cominciare da oggi, da qui fino a tutta l'estate. Il tema della fotografia già dall'inizio, nelle discussioni con l'assessora Giulia Ghia, che ringrazio, l'assessora del Municipio, la cultura, è stata individuata come uno dei linguaggi importanti per appunto portare la cultura a Roma. Quindi proprio per questo abbiamo identificato questa collaborazione con la piazza della fotografia e l'abbiamo voluta portare avanti. Grazie. Grazie. Grazie.